Dance like there's no tomorrow Tutti hanno a che fare da una parte o dall'altra Della barricata benvenuti Nel mondo dei tre danni Allora di cosa stiamo parlando E' uno dei mazzi che ha avuto Diciamo ha avuto Un pari merito me l'avete chiesto Per essere giocato in un deep dive Ma ha perso contro humans quindi Da domenica e da sabato in poi Vedremo una settimana di humans Però ha voluto farci un paio di video comunque Perché pare proprio che vi interessi Vedere giocato questo archetipo Allora stiamo giocando Uno dei Come si può dire dei tier 2 Uno e mezzo più interessanti Di tutti io ho sempre amato Questa tipologia di mazzo in realtà anche se Non lo gioco così tanto spesso Perché non mi si fitta particolarmente Ma se in standard E' disponibile un monored deck Lo provo sicuramente ho giocato proprio Prowess anche in modern Prima dell'uscita del secondo modern Horizon per un buon periodo di tempo Quando si giocava con le manomorfosi Con i kingfiend Mi è sempre piaciuta come idea di mazzo Essere così tanto esplosivo E' un mazzo che vuole vincere tanti G1 Quello che può essere un dredge fair Quindi ha un po' più di sfighe Ma ha anche un tipo di interazioni molto diversi E quindi può provare a darci dei gameplay Che comunque siano interattivi con lo stroppo E non soltanto dire guarda ho vinto ti ho ucciso Quindi questa è un po' l'idea del mazzo Quindi ucciderlo in fretta Senza fargli accorgere di nulla Di quello che sta succedendo E poi G2 settarci Sederci tranquillamente Per fare una partita di magic realistica Ma vediamo un po' come è montato il mazzo Io ho preso una lista che mi sembra molto buona E' molto quadrato Quindi gli slot flessibili sono pochi E credo che siamo arrivati a una definizione Di quello che può essere secondo me La shell giusta per le 75 da giocare Giochiamo 19 terre E sono 6 montagne base Bordo bianco mi raccomando E' importantissimo per far triggerare l'oppo Mono Sockenzan Che è una landa intelligente Non ci interessa particolarmente avere carte Che abbiano dei trick incredibili Però può tornarci utile Fa o da montagna base Oppure possiamo usarla per fare Un paio di token Un threat che insomma Non costa niente andare a giocare Giochiamo 4 perdi Fiery Islet Piuttosto che Sunbacked Canyon Insomma terre che ci permettono Di essere canopi land con rosso E poi 8 fetch 4 Bloodstained Mire 4 mesa In realtà 8 secondo me sono tante Possete tranquillamente scendere a 7 o 6 Perché non avremo mai bisogno Del trigger di landfall Quindi sono giocate 8 Perché è un numero Ok Per cominciare a ridurre La percentuale di pescate di terra Nel mazzo Non è che impatti così tanto Secondo me Dalle 6 in su Il numero di fetch Va più che bene In modo da alleggerire ancora di più Il budget Aggiungete tranquillamente Un paio di montagne E ci siete O una canopi land E una montagna in più Senza problemi Poi abbiamo 4 drop a 0 Che vanno benissimo Con tutti i nostri pezzi Comprowest Sono delle Mishra's Bubble Carta costosissima Almeno fino a prima Del Bandilurus Adesso sono a un prezzo Ok Niente Sono un opt Più bello Se abbiamo in campo La nostra DRC Alla peggio Sono un'informazione in più Che ci può servire Per decidere come andare a giocare Questo è il prossimo nostro turno Che è importante Ecco La skill più importante richiesta Secondo me Per giocare un mazzo del genere È saper gestire le proprie risorse E questa carta Ci dà la possibilità Di avere un'informazione in più Proprio su come andare a gestirle 4 per Abbiamo 27 drop a 1 Creature 4 per Le creature sono 4 per di Dragon's Trade Channeler Un 3-3 Praticamente un Delver intelligente Rosso Vogliamo sempre giocarlo Va benissimo Con tutte le nostre spell È la carta che si avvicina di più A Una Card Selection Nella nostra shell Quindi la giochiamo In 4 per Fantastica Imprescindibile Se parte Riusciamo a girarla In 3-3 Abbastanza rapidamente Secondo me Si porta a casa Dei Grand Game Poi 8 creature con prowess Che sono 4 per di Monastery Swift Spear E Ah no scusatemi 6 per 4 per di Monastery E 2 per di Soulscar Mage Potete giocarne Secondo me 8 Io ho scelto Una versione con un po' più botti Per giocare un po' burn Hit e 1 per di Firebolt Questo un Firebolt E un Annoly Hit Secondo me Si potrebbero cambiare In doppio Soulscar Mage Adesso Ci ragioniamo Un secondo Ma credo di giocare La league Con questa lista Secondo me Questi due slot Sono i due flex Che possiamo decidere Di andare a mettere Tra le creature Per averne a disposizione Qualcuno in più Benvenuti Benvenuti nel futuro Io sono Flavio Che ha fatto una league Con questo mazzo Per problemi tecnici Non è riuscito A registrarlo Meglio ho registrato I primi tre match Ma poi la corrente È saltata E ho perso Tutto il lavoro Fatto fino a Quel momento E Con cognizione di causa Vi dico che È meglio giocare Il terzo Soulscar Mage Sopra Firebolt Ora Lascio la voce Di nuovo A Flavio Del passato Abbiamo otto carte Che ci danno Possibilità di scavare Del mazzo Che sono Quattro perdi Reckless Impulse E quattro perdi Light up the stage Una in realtà Andrebbe messa qui Per correttezza Ma effettivamente Il suo costo è Tre Con spettacolo Diventa uno Quattro perdi Reckless Impulse L'ultima entrata Del mazzo Perché arriva direttamente Da Crimson V Ci permette di esiliare Le prime due carte Del mazzo E possiamo giocarle Fino a fine turno Importante Ricordatevi sempre Di giocare Queste due carte Prima di aver fatto terra Se ne avete la possibilità Perché se giriamo una terra Vogliamo farla Da quelle Tenendoci in mano La nostra Per Vari discorsi Per poterne prendere Una da fuori Piuttosto che Giocare la nostra Per Fintare Una carta in mano Invece di Magari abbiamo Reckless Impulse E montagna in mano Giriamo una montagna Ci teniamo una carta in mano Per cercare di fare Una specie di gioco psicologico Sul nostro avversario E poi Ultima carta Che mi piace tantissimo Di queste liste Che si vedono ultimamente Due per Di Underworld Bridge Che ci dà la possibilità Di rifare delle spell Dal nostro cimitero Pagandole con loro Costo di mana Più Escape 3 Quindi esiliare Tre carte Dal cimitero E per poterne Creature comprare C'è da dire Che Ah giusto Non ho nominato lui Dei nominabile 4 per di ragavan Nimble pilferer Chiaramente è una carta Talmente forte Che la conosciamo tutti 2-1 A costo 1 Possibile con dash A costo 2 Quando fa danno esiliamo Per esempio Due Vediamo se mi ricordo Come si chiamano Blist Vediamo Salta fuori Quantità Zero Eccolo qua Potete andare a mettere Il 2 per di Blister Coil Weird La pronuncio in inglese Questa carta Mi ha sempre lasciato Un attimo così Che è una spell A costo 1 Che ha Prowess Antelitteram Perché dice Quando tirate una spell Di santo sorcery Lui prende più 1 Più 1 E si stappa Quindi è un super Prowess Perché in più Si stappa Può essere una buona aggiunta Se vi mancano i ragavan Ma volete comunque giocare Questo mazzo Secondo me Esiste Questa possibilità Per andare a giocarlo Senza problemi Chiaramente il power level Si abbassa Ma si abbassa Anche di tanto il costo Perché Blister Coil Costerà 50 centesimi Se proprio va malissimo Poi La side È composta da 1 per di giganta Come traietta aggiuntivo Che possiamo andarci a prendere Se la partita diventa lunga Comunque è un 5-5 Gratis Da avere nel mazzo Non vedo perché Non giocarlo Una quantità di artefatti Che adesso andiamo a vedere Nonostante non giochiamo L'Utta Saga E le spell rosse Che sono 2 per di Alpine Moon Non giochiamo Blood Moon Perché ci piace stare Più leggeri Di costo di mana Ma credo che Blood Moon Comunque sia una buona scelta C'è da dire che L'investimento di 3 mana Su Blood Moon Con Boseiju Che gira nel meta È peggio Di un investimento Di Alpine Moon Contro l'investimento Di 2 di Boseiju Quindi è proprio tutto Un Io spreco un mana Ma ti faccio fuori Magari una Saga Tu ne sprechi 2 Mi dai una Randa Quindi praticamente Abbiamo fatto Più 2 mana Rispetto alla sua giocata Può essere vista così È una carta forte Blood Moon È una carta che Tante volte ci si inchioda In mano Perché non giochiamo Tante terre E tendiamo a tenere mani Che siano più spell Che lande Quindi ci sta Questa scelta 2 per di Shuttling Spree Perché come potete Dedurre dal fatto Che abbiamo 27 Drop a 1 Se ci fanno un calice Possiamo anche concedere La partita E andare a prenderci Un caffè Magari con Shuttling Spree Ne usciamo Poi abbiamo Un tot di artefatti 2 per di Pirite Spell Bomb Utilissima da sai dare In tutti i matchup Dove avete paura Di incontrare Core Sanctify Renvec E Auriok Champion Piuttosto che Core Firewalker Quindi creature bianche Protette dal rosso Che sono toglibili Solamente da Spell in colori 2 per di Solgail Hunter Che è fortissima Contro tutti i mazzi Che passano dal cimitero E che si permettono Di avere anche Le line bianca 2 per di Dragon's Claw Da mettere nei mirror O comunque nei matchup A base burn Ok Quindi contro burn Contro un altro Modern Red Prowess Contro i prowess Rossi Splash Di altri colori 2 per di Torpor Super comodi Da mettere Contro i mazzi A base elementali O a base Kikijiki Cioè mi vengono in mente Tutti quelli che si possono Permettere degli ATB Molto forti 2 per di Calici del nulla Da mettere Contro i cascate deck E praticamente Nient'altro Molto quadrata La side con degli slot Dedicati A delle monocarte Che possono andare A darci dei problemi Per cercare di rallentarle Mentre li Malminiamo Con le nostre Creaturine Quindi Sideare il giusto Non troppo Non troppo È un'altra Delle skill Richieste Per giocare Bene Questo mazzo Che nasconde Un po' Di trick Non ne ha Infiniti Però secondo me Un giocatore Che sa giocare bene Questo mazzo Vince molto di più Di un giocatore Che lo sa giocare Nella media Bisogna saper valutare Veramente tanto Tanto bene Tutte le nostre risorse Come in tutti Gli aggro E decidere Come sai dare Valorizzando Il nostro piano Senza allontanarci Troppo Da quella Che è l'idea Centrale Del mazzo Ovvero Vincere nel minor Tempo possibile Ci saranno Di match up Dove questa cosa In realtà Passa magari In secondo piano Perché si cerca Di controllare Magari le creature Dell'op Con i nostri botti E quindi possiamo Decidere di giocare Diversamente Il timing Delle nostre creature Però di base Quello è Intanto che aspettiamo L'oppo Vado a bere un po' Di acquetta Ci vediamo Tra pochi secondi Primo match Siamo sul draw Riveliamo la nostra Simpatica giganta Che deve far credere A oppo Che giochiamo Grixis Death Shadow E questa mano Secondo me Si può tenere Qua andrò Presumibilmente Di DRC Into bolla Sopra Ragavan Lui gioca B-b-b-b-b-b-b-b-ti Allora potrebbe essere Un piano Giocare Ragavan Anche solo per portargli Via un botto Però doppia Cioè doppia bolla Con DRC È una bomba atomica Posso farlo anche dopo Però vorrei pescare La landa Quindi no Devo far lei E cercare landa In cima A questo punto La seconda bolla Ce la teniamo In della mano Lui ci farà Triggerare Per questo Non ho spaccato bolla Perché la peschiamo Di Goblin guide E Quindi Mi sembrava Corretto Evitare di Searing blaze Hanno sempre Si rimescono Cosa peschi dopo Una montagna Va bene Quindi credo Di non lasciare Nemmeno Ragavan Perché Non ha Troppo senso Posso appoggiare Un doppio pezzo Terra Terra Ok Terra Un all it Siamo a 12 Comunque Non siamo proprio felici Facciamo Ragavan Non lasciato Perché sappiamo Che in cima Ha una schifezza Probabilmente Tengo open Questo all it Sul suo pezzo So che non è bello Forse potevo fare Soulscar mage Però Così lo motivo A tirarmi il botto Su Ragavan Che è un pezzo Più inter A meno che non abbia Un'altra serie in blaze E però zio Cioè Placati Siamo a 9 Lui ha 3 carte in mano Normalmente sono 9 danni Quindi Che mi giuri Bolt Tu Devi morire Ok Quindi la montagna Che sapevamo avere in mano L'ha fatta Almeno Ho giocato una cosa La stessa art Quindi O è un giocatore Di botti furbo Sospend Lava d'arte Allora Vediamo un po' Cosa pesco La vogliamo fecciare via Andiamo a 5 E purtroppo a 5 Siamo messi molto male Contro di lui Dascio Ragavan Attacco di Ragavan Farò un pezzo Per evitare di prendere I danni Dalle sue creature Rift Bolt Non lo possiamo tirare Faccio un soul Scarmage E passo Non siamo per nulla Felici Ma proprio Per nulla Eh sì Quando partono così Di solito È perché Ci hanno ucciso Siamo morti Comunque Abbiamo tutte spell Sotto il 2 Da poter fare con lui Quindi direi che Non molto bene Siamo partiti Non benissimo Allora Doppia Dragon's Claw Mi sembra una roba Molto interessante Sicuramente Le P-Rights Problem Perché lui metterà Dei pezzi protetti dal rosso Non possiamo mettere I calici Chiaramente Quindi credo Che vada bene così Dobbiamo ottenere Magari con un Dragon's Claw Non so se lui metterà I smash To Schmitter Contro di noi Possiamo togliere Un lava d'arte Forse addirittura 2 Perché non è proprio Il suo match up Anche se potrebbe fare Delle cose fiche Ma no Perché tanto poi Ce le esiliano Anche con Source Car Mage E gli altri removal Però li vorrei tenere Perché sono forti Secondo me Nel match up Presumo di poter Tagliare una breccia Proprio sempre Per quella simpatica Amica protetta dal rosso Sì Togliamo un terzo lava d'arte Tengo tante bestie Tengo tante bestie Non andremo mai In delirio Con DRC Ma ci potrebbe servire Per trovare Le nostre Pirite Spell Bomb Che sono l'unica Risposta Le creature protette dal rosso Che ci possiamo permettere Di giocare Tra l'altro Pur volendo giocare Dismember Non prenderemo Né Aureoc Champions Né Senti Fire and Back Quindi credo Che staremo su Pirite Spell Bomb Partiamo noi adesso Questa è una partita Che secondo me Viene decisa molto Soprattutto G1 Dal tiro del dado Qua Kippo Faccio un Ragavan Perché Se rimane Per sbaglio Vivo Di solito È un casino E comunque Alla peggio di secondo Posso fare Cacchio però Gioco da 4 Alla seconda Di secondo Posso fare Ragavan d'asciato È buona Non abbiamo in mano Dragon's Claw Né Pirite Spell Bomb Ma abbiamo Reckless Impulse Che può essere comodo Per andare a cercarcela Lui va A 5 Quindi ha cercato Ardentemente La Spell Doppio bianco Una delle sue Spell doppio bianco Che sono protette Dal rosso Tocca a te Facciamo Ragavante E passiamo Ok Dopodiché Mi dica Mi dica Dopodiché Volt Quassù Goblin Guaida Eh Volteremo La Goblin Guaida Probabilmente Sì Attacco Vogliamo che Il nostro Ragavan Itti felice Ma questo Non lo faremo Ma sul Scarmage Lo faremo Tocca a te Poche carte Dobbiamo cercare Veramente Uno dei nostri Drop Forti Con Quella Creatura Quella Ragavan Attenzione Non paro Allora Io ti tiro Bolt Sul pezzo Vediamo Cosa vuole fare Ok Magari Mi volta Ragavan Prima che faccia Danno Forse potevo fare Lecler's Impulse Qua Eh Ho sbagliato Vabbè Fa niente Attacco Ho sbagliato Voglio farlo Pre-combat Era un danno In più E in questo Matchup I danni Contano Tutti No Aspetta Cerchiamo Una Una Terra E L'abbiamo Già fatta La Terra Va bene Tocca a te Due carte in mano Per il nostro op Un altro Reckless Impulse Qua E una Terra Da fare Il prossimo turno Ok Anno Lit Prima di fare Tutto il resto Poi facciamo Terra Poi facciamo Dovo fare Prima Reckless Impulse Però voglio evitare Di prendere I danni Di sto Cosa Dove Aspettare Forse Ok Però no Voglio farlo Pre-combat Non come prima E lightning bolt Che terrò in mano Per uccidere Una sua bestia Non lo so Poi vediamo Magari adesso Trovo un suo bolt E lo faccio Bloodstained Mare Lui è a 6 Vai Tocca a te Siamo Siamo riusciti A girare Zero carte Di side Sono 4 Comunque Abbiamo 43 Carte Nel mazzo Sarebbe Miste 17 Non sono proprio Poche poche Posso anche Decidere di pescare A fine turno Senza troppi Problemi Va bene 11 Adesso mi farà Schiur Da critiques Qua Ah Ok Pesco Oh ma che bello Anche questo Pesco Ottimo Spirit Spellbomb Ottimo Abbiamo visto Tante terre Cioè tante carte Molto buone Nel matchup Secondo me Perché comunque X pezzi Problemi è che qua Non lo andiamo a uccidere Però Insomma Li giriamo Potremmo ucciderlo Potevamo ucciderlo Se giravamo Un bolt Della sua parte Lasciamo il deck E il mazzo Esattamente Così com'è Adesso che lui è sul play Però mi conviene Andare a molligare Almeno una volta Almeno di mani Fortissime Se non ho Dragon's Claw O una risposta Sanctifier and Vec Perché sul play Posso permettervi Di avere una buona mano E giocarla Sul draw È un po' più Complicata La situa Questa mano È buona Perché ho due pezzi Rapidi E lei che scava Ma no Va bene La tengo Dio Certo Che sono veramente Di un'incoerenza Quando gioco questi mazzi Fa impressione Lui è solo Guida goblin Qua faremo Terra Passo Vado in Discard Forse devo scartare Questa terra Però pesca Quindi potenzialmente È ok Ma la faccio Prima della sua Trigger I believe Cioè Gliela faccio fare Comunque Lui qua Poi farà Una giocata Chiaramente Post combat Giustamente Noi abbiamo Un light up De stage In cima Che potremmo fare Anche solo Per andare a trovare Qualche pezzo Forte Ma magari ha tenuto Monolanda Non è che non può essere Può anche essere I giocatori di burn Tendono a tenere Monolanda Lui Ok Allora Io qua credo Di fare drc Stare open Di bolt So che è una Una mossa Molto safe Stare molto Indietro Ma Voglio capire Cosa là Cosa capita Perché secondo me Fare un ragamandasciato Lui così Poteva avere Una elica Qualcosina così Un boros charming Da face Molto male Questa cosa Dobbiamo cercare Un dragon's claw Mi raccomando DRC Un dragon's claw Tra l'altro Solo due tipi Di carte al cimitero Quindi poco Sì Sì Non blocco Non blocco Se ha doppio bolt E non me l'ha fatto In combat Sono contento Cioè Se lo fa per salvarsi Il pezzo Ah che bene Non è che Minamento Cimitero 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 Ah questo è un Serenblaze Appostato lì Per ragavan Chiaramente Sì Non essere Però così Non muoio Mentre se vado a 7 Muoio dalla combinazione Di due carte Non so no Però Non mi dispiace Trovarla Landa Per fare ragavan E lasciare un pezzo Indietro Vediamo un pezzo Sopra Porca Eva Ha fatto prima La pre-combat Forse è una cazzata Però voglio vedere cosa peschi Lava spiche Vai E lui è a 15 15 è molto Rekesimpulse Non è tanto È buono Ma non è esagerato Noi veramente Non abbiamo trovato il pezzo Ok Dragons Clore Non posso andare a 3 Attaccherò con una sola Faccio una mossa Veramente Super safe Urca E siamo morti Siamo morti Da qualsiasi botto Lui abbia In realtà Perché andiamo a 2 2 è molto poco E quindi Niente L'abbiamo visto Un attimo tardi Devo dire 6 Una carta in mano per lui Montana Montana È buono Via Yes Diciamo Ehm Ragavan Ragavan Yes Certo Continuiamo a morire Da Boros Charming In questo particolare caso Però deve pescarlo Possiamo anche sperare Che non lo peschi Sarebbe figo Sarebbe molto figo Prossimo turno Non posso fare Terra Monasteri Pesco E provo a ucciderti No Dai no Yes Uno Facciamo Terra Monasteri Yes Vado a 2 Pesco Pyrite Spellbomb Al momento Non mi serve Attacco così Lascio dietro Una Monasteri E 4 è poco Chiaramente Lo so Però voglio girare Le sue carte Fare un pezzo Che va molto bene Fare Light up the stage Ho già fatto Terra Cosa Un po' Sbagliata Always yes Per favore Una Spell rossa Non c'è Una Spell rossa Non c'è È problematica Questa situa Vai Perché Borros Char È sempre vivo Come top Deco E ce la portiamo A casa Con Dragon's Law Allora Il match up Non credo sia Come si può dire Negativissimo Per Prowess In generale G1 Ha fatto una partenza Che noi non potevamo mai reggere G3 Abbiamo visto bene noi Nel senso che abbiamo visto L'ultimo turno utile Dragon's Law E lui non ha visto Borros Charm Ma credo che se partiamo Sia difficile perdere In effetti G2 Ce l'ha sempre portata a casa Super Agile Però l'ansia ragazzi Giocare questi Match up Di Mazzi A base rossa Ti sparo Gli ho sempre avuto un po' l'ansia Anche perché Un mio buon amico Gioca a botti Quando giocavo questo mazzo Praticamente giocavamo sempre Monored Contro botti E continuavamo a vincere Prima lui Poi io Prima lui Poi io Prima lui Poi io Prima lui Poi io Siamo sempre rimasti Un pochino lì così Comunque Piccola pausa Acquetta Grande classico Tra un game e l'altro Per attirare i miei Oppo E poi vediamo Il secondo game Di questa league Ok Siamo tornati L'acquetta Non ha funzionato subito Ci abbiamo messo un attimo A trovare il secondo Oppo Tra l'altro io vorrei farvi notare Che per giocare Monorosso Ho messo la camicia Che non metto mai Per nessun mazzo Perché Monorosso È un mazzo Di classe Bisogna avere Un certo Savorfare Per andare a giocarlo E per mulligare Le mani senza terra Che credo ci stia No Cacchio Non è bella Neanche questa L'acquipo Credo di mettere Sotto Eh però A togliere le monastri No Puoi mettere sotto Light up the stage Però è più forte Quello di Reckless Vai Via Reckless Dai Proviamo così Indecisione A dei livelli Madonna Clamorosi Questa mano È fortissima Se pesco la seconda landa Ma fortissima Quindi mazzo Per favore Io ho messo del mio Mettendo la camicia Tu impegnati Mettendoci le lande Ok Vai pure Tocca a tua Ok Tra l'altro come vedete Il setup è cambiato Ci sono sopra i Seguitemi su Quindi Seguitemi sui social Ma tutto questo È cambiato per Ancora botti È cambiato perché Quando mi si è fulminato Il pc Cioè quando È sparita la corrente Il pc ha perso tutti i dati Anche relativi a queste robe Non ho chiaro perché Non è una landa È un Reckless Impulse Quindi dobbiamo fare Terral Cioè Meno Light up Molto male Comunque Mazzo Io mi fidavo di te Vai Mi si è svegliato Un gatto Ok Ai 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 Signora Longari Prego Vai pure Vediamo cosa peschi Io non so cosa pescherò Mamma mia Lui ha una bella Partenza Avrà tenuto anche Giustamente con due lande Invece che con una Perché È un po' più furbo di me Io ho tenuto male Probabile Però ci credevo Veramente un sacco Seconda guida Ai 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 Signora Doppia terra Una E Ragavante Eh però siamo a 13 Non è che siamo proprio Freschi eh Questo muore Va bene E pesco ragavan E un'altra carta Ok Questa non è male In realtà Mi posso fare Terra Soul Scarmage E lava d'art Qua sopra Con lui che In realtà Puoi farà schif Vediamo Se mi giro Una terra sopra Sparo anche L'altro L'altra goblin guide E magari Cosa faccio Certo lui Ha in mano Un barossiano Quindi noi siamo A 8 In realtà Che non è una figata Contro botti Perché poi 8 Quelli Li prendiamo Quello potrebbe essere Un sering blaze Ma ne hanno avuti Due di fila E ho proprio detto Che ansia Questo matchup Due di fila Sì Cosa mi giri Non è una terra Ma è una DRC Quindi non posso Fare ciò Va bene Entrerà un 3-3 Se ci basta Bene Se non ci basta Siamo moruti Eidron Eidron Cattiveria Pura Andiamo direttamente A G2 Ragazzi Perché qua Siamo morti Perché dobbiamo fare Doppia spell Qua Vuol dire che saremmo A 6 Morti Morti Come prima Più di prima Più di prima Pam 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 Perite Dragon's claw Togliamo Underworld breach Per lo stesso motivo E lava d'arte Che avevi visto Che non sono esattamente Funzionalissimi Ecco in questo matchup E' buono Sul scar mage Firebolt Secondo me ci poteva stare Come rimuovo L'aggiuntivo Che pre side Prende tutto Post side Prende tutto Tranne Di perzi Presati dal rosso E vabbè Nel senso Ci sta Doppio burn Di fila Non è esattamente Quello che volevo prendere Ma principalmente Perché Ragazzi Un'ansia E poi Cacchio Speravo di Poter tenere bene Perché andare a 5 Con una mano monolanda Che poteva pescare Ho anche tolto Reckless Impulse Che comunque Era fastidiosa Tenendo light up Ma Questa cosa Non ha pagato Abbastanza Quindi Mi raccomando Non tenete monolanda Come me Se no Poi ci morite Come me Che non è proprio Una cosa simpaticissima Perché Morire da botti Ci sta Un torneo Non è una roba Incredibile Anzi Io vedo tanti giocatori Che si incazzano un sacco Quando perdono da botti Io mi incazzo personalmente Quando perdo da botti Quando capisco Che il giocatore di botti È un incapace Perché Perché Tra l'altro Hanno questa nomea Ma non è così vero Ma Mi incazzerei Contro chiunque Se Capissi Che il giocatore Che davanti Non sta giocando Con cognizione di causa Si trova lì in quel momento Perché Ha imbroccato I tavoli giusti Ha beccato Glioppo Che avevano un buy Per il suo mazzo Ha beccato Tutti trovano il torneo E così In realtà giocare i botti Non è una cosa così Scontata E così semplice Ha una curva D'apprendimento Molto rapida Ma Richiede Un'ottima skill Per decidere La sideboard E cosa andare a sedare Che mani tenere Forse questo L'ho anche già detto Quindi non è esattamente Da sottovalutare Perdere con botti Ci sta Perché è un mazzo Sempre verde Che ha dei brutti Momenti nel meta E dei bei momenti nel meta Che si alternano Con una velocità Clamorosa Quindi Penso che sia corretto Ci può capitare Ogni tanto di perderci Stiamoci Senza troppi problemi Se dovete Incazzarvi Perché perdete Contro qualcuno Incazzatevi Con chi Giocatrono Opinione personale E poi Chi gioca trono Direi Incazzatevi Con chi gioca storm Giusto Non è vero Non è giusto Però Può essere giusto Qua facciamo attacco Light No Devo fare Prima Anolizzo di lui Così ho dei danni in più Con i miei monasteri Ma però Facciamo così DRC Two More E vogliamo cercare Il nostro pezzo Come sempre O palletta Questa ce l'abbiamo già O palletta O Dragon's claw Che ci servono E abbiamo per scavare La nostra Dragon's Ray Channel Che comunque è molto molto buona C'è da dire che Se dovesse farci ora Sanctifier Siamo costati a fare Lava Dart Che abbiamo lasciato in uno Per e abbiamo pescato Into Light Up Che non è una ficata Non ce lo fa adesso Cosa fai? Eidolon No Serenblaze Eh ci sta Ci sta Allora Qui possiamo fare Lava Dart Su di Tè Light Up The Stage Facciamo Mishra's Bubble Light Up The Stage Miniamo per 5 Che non è male portarsi avanti Così tanto Magari giriamo un'altra bolla di Mishra No però è un bel ragam che possiamo lasciare più tardi Bolt in cima Ok Io pesco 1 dopo Abbiamo fatto una buona girata di Light Up Non pazzesca perché cercavo uno dei miei due artefatti Abbiamo trovato un removal Sono sempre removal che non uccidono i pezzi protetti Quello è problematico Però Seconda serie Eh sti cazzi Va bene Qua Tasceremo Ragavan Comunque perché ci attiva Aspetta Ok Ok siamo a 7 Allora Facciamo Montana Dash Attacco Bolt in cima Ok Facciamo Light Up The Stage Facciamo Mishra's Bubble E il turno dopo Mettiamo cosa peschi Sapevamo di questo Bolt Ok Il turno dopo faremo Reckless Abbiamo in mano un Bolt ottimo Secondo me Lui è a 7 Cioè abbiamo in mano Abbiamo No il suo Bolt era da fare adesso Flavio Il suo Bolt era da fare adesso Beh ho 3 R Dai Piene removal Certo se avessi giocato dritto forse Sarebbe stato meglio Anche perché è un Bolt diverso Lui ce l'ha in mano uno Sì Boros Charm Morti da 2 carte Queste Queste È a doppi Bolt in mano Per giocare così No va Spike e Bolt Così se avessimo avuto una risposta Ci sta Partite velocissime Per il video di oggi E niente 1-1 contro Botti Il mazzo che mi mette l'ansia A incontrare Quando gioco a Monored Preso 2 volte E lui era 4 Noi non potevamo Farci niente E niente È stato Un piacerone Ci vediamo domani Con il resto del video Grazie a tutti